Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti raggio carino in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead Final Season Ebbene ragazzi l'ultima cosa che ricordo abbiamo fatto durante l'ultimo video è preparare e allestire insomma la scuola affinché i ragazzi possano essere pronti a ricevere una visita dai probabili cattivoni eccetera eccetera che molto probabilmente attaccheranno la scuola come per gli altri giochi ragazzi che sto portando in questo periodo sono molto curiosa di vedere cosa diavolo succederà adesso e continuo ad incrociare le dita sperando che la Teltel riesca in qualche modo a portarci gli ultimi due episodi ok eravamo arrivati qua AJ sembra non essere in stanza e la cosa mi preoccupa non poco ok siamo in game ragazzi e dice segui il cavallo nel sogno che cavallo io più che altro sento un marmocchio piangere disperato quindi c'è cavallo io non ne vedo che bello qua io adoro i cavalli lo sapete uno dei miei animali preferiti in questo caso direi che è stato abbastanza inquietante anche se non è che insomma avesse tipo occhi rossi indemoniati che potessero farci legare addosso ma non so cosa diavolo sta succedendo effettivamente ah è un sogno allora nooo povero ma perché che diavolo succede ragazzi non sarà la paura di quello che può succedere mi dispiace amico mi dispiace è morto ragazzi che tristezza io tra l'altro ho ancora il noso tappatissimo non so se bene siete accolti però vabbè ma questo cavallo poco importa perché non ho le avvenire idea di cosa stia succedendo questa luce rossa infernale adesso si che fa cagare addosso oh mio dio ma siamo proprio all'inferno questo è mi chiamo mevi in prepad oh ah è lì meno male era un sogno questo era chiaro che fai con quello che vuol dire oh mi rispondi o no si certo come no non credo scusa Emma appunto si 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 vabbè 13 ah minchia ancora dolorante vabbè ovvio oh fai un po' quello scontroso eh forte non stupido scusa ebbè forse non avrei dovuto però mi sta mi sta innervosendo oggi che è sto atteggiamento peso cercare di dormire per favore so che dirai doma vabbè vabbè non abbiamo convinto a restare ragazzi almeno questo si sente più assicuro si si mollalo oh aj what effettivamente la verità è ancora piccolo e purtroppo si comporta come se dovesse essere già grande ma questa è una conseguenza del mondo che lo circonda purtroppo ok madonna eh oh mi fa piacere bene bene che succede ragazzi è imbaranza Va bene Non ci resta che parlare un po' con tutti E guardarci intorno Guarda i graffiti Cosa ci abbiamo scritto Go away Beh più chiaro di così Direi che si muore Allora Guarda l'asta della bandiera di nuovo Vabbè Qua c'è la testa di uno zombie Zombazzo malefico Ammazza che schifo Ho un po' di dubbi Chissà quante ne avranno viste Anche loro Quindi non è che Credo siano molto efficaci Però vabbè Comunque che ragazzi Quando ne vedi una Per forza di cosa ti allontani Parliamo con Luis Vediamo che cosa era dirci Oh Non ci sei proprio amico Vabbè Cosa sta per il pratica In alcuni setti O giorni o giorni The Raiders The Raiders The Raiders Will be here Burn down our place And steal or kill us And then it won't matter How much I sucked at this The Raiders Aren't gonna burn anything Or steal anybody We'll stop it You sound like Marlon I mean Not about fighting But When he was trying To cheer us all up For years I sat around Making stupid jokes Playing stupid games While my best friend Was left with all the responsibility All the tough calls All the sleepless nights And eventually A bullet in the head And I didn't do a damn thing about it And then when you tried to tell us What he was really like And AJ shot him I blamed you Both of you If I could take it back I would I knew that the day you got back I still do You pardon I forgive you I understand why you did it I'm not angry He was my best friend Almost like my brother But the things he did They were fucked up It's normal that you know At least At least It's a step ahead Here You take it Davvero Are you sure? I mean It's Marlon's Yeah It was And he used it To defend the school Before Before he stopped Go ahead Che figo Mi è sempre piaciuta L'idea ragazzi Di tirare con l'arco La trovo una cosa Molto figa And just so you know I'm totally laughing out loud When you miss Stai tranquillo Non sbaglierò Sicuramente Allora Tieni premuto LT Per mirare RT Per scoccare Wow Che figata ragazzi Mi piace un sacco Ok ovviamente Bisogna tenere in conto Il vento Ste cose qua Eeeh Minchia quasi centro Ti stai sganasciando Eh Ti stai sganasciando Luis Perché non ridi su questo Minchia vorrei fare il centro Ma Eeeh Sì Wuhu Remind me Never piss you off While I'm standing at a moderate distance With a big red circle painted on my chest You want to come back and practice more Just let me know Ok Ok Sounds good Grazie And Clem Thank you For all of it E' affinata la mira con Luis Abbiamo anche appianato Le nostre divergenze Oserei dire Per cui questa cosa La trovo molto molto interessante Sare qua ora Ti può tirare con l'arco Ma non è il caso Guarda la catasta di crani Bella Bella e puzzolente Oserei dire Ok Direi di lasciarla qua Ciao Mitch Mitch l'insensibile Che è con me Puoi fare le bombe If they get in I'll need you to set the bomb off While I distract them Expect the unexpected Yeah Something like that I read that on one of those stupid inspirational posters School used to have them everywhere As soon as things went to shit I tore them all down Certo Stai tranquillo Ci penso io Ecco qua Via 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 Continuo a provare Continuo a provare Scuola Non è come se ho tutto il tempo nel mondo Per giocare di scienzi E per figure this shit out Lo so Per questo ti ho detto Di continuare a provare Di niente Meno male ragazzi Stiamo Continuando Per lo meno A migliorare I nostri rapporti Con i nostri compagni Qua Guarda le macerie Non credo proprio Viste le condizioni Andiamo di qua Vediamo cosa c'è Oh Parla con Rosie Amore La carezza Good girl What did Marlon Used to do Che brava Vai amore Vai Che bello Peccato che C'ha il brutto presentimento Che il cane morirà Ragazzi Purtroppo Niente da dire Segu No Sputa No 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 Non arriviamo A sti punti Guardiamo la tomba Di Brody Andiamo E vediamo Qua cosa c'è Le tomba Signorina Martin Qua non possiamo Vedere niente E qua Non possiamo Più andare Perfetto Per cui Provare di tornare Di qua E vedere Che cosa Ho dimenticato Probabilmente Solo parlare Con i ragazzi Qua Credo Ehi Do you think Sophie And Minnie Might be with them When they get here I don't know Maybe I'm doing watch Clem For danger Like patrol No Clem Look out Is totally different Ecco Eccola qua Dunque Violet Ragazza segreta Mentre Innamorata Di Clem Come lo è Louise Perché pure Louise C'è una cotta Per lei Questo è chiarissimo Già si vede Lontano Un miglio Parliamo Con lei Stanno bene Ok Fanno il possibile Sì Ma cosa c'entendi Che facciamo di più He stopped giving out Participation trophies When walkers Started eating people Because you're boring And your idea's stupid Oh I'm being stupid You're the one Who can't think straight If you could hear yourself Guys What the fuck Violet told us To work on the traps Together But a sim Won't listen To anything I say That doesn't mean You have to scream At each other Stay out of this I have an idea For duffel bags Filled with bricks We drop them On the raiders If they get To the admin building Willie here voglio usare una scuola idiotica per ottenere una scuola una scuola è completamente stupido tu sei stupido, tu sei scuola no, non ho! sto cercando di aiutare aiutare! la scuola è sembra che può fare sì, è quello che ho detto certo, scuola per una persona se si riesce a incontrare a qualcuno non lo so, non mi ricordo dai, su, non essere cattivo ragazzi ce l'ho più eh, tipo madonna non lo so 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 bene opp minchia un treniquadri che schifo vediamo la verità mary fuck kill fine mary flip kill ruby asim o james che non lo so non ho capito oddio che ne so la butto su non lo so 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 sono felice che sono di buon umore comunque speriamo in bene chiedi un bacio a ruby ovviamente non posso chiedere il bacio a ruby devi chiedere il bacio a ruby per un bacio seriosamente? le più legittime voi li tirano uno schiaffo lo sapevo lo sapevo e dai ok vediamo un po' di sicuro ho perso lo sapevo abbiamo stato molto difficile su un po' di sim qui chiedendoci il bacio di ruby sembra solo che ci chiederemo di qualcuno su un amore quindi Clem qualcuno qui ti piace come? oddio dai non vi fate parte seriosamente? come? sei? sei? ok sì ho sicuramente ho sensazioni per qualcuno chi è? niente non lo so era per dire dai non sei tu poverino ok chissà se alla fine finiremo oppure noi per baciare qualcuno tu hai la carta e la perdita è Tennessee oh oh non potremmo non potremmo non potremmo prenderli in giro ragazzi cosa succede? io non so non so ma non non ricordo un tempo prima c'è troppo picco non 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 ma questo è ancora più di merda lui se scusa che l'ha detto per incoraggiarlo a bene ok 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 che dà non non mi fate fare ste scelte che dà non mi fate fare ste scelte non mi fate fare ste scelte merda idiotà sono indecisa che c'è personalmente mi piacciono entrambi certo lui c'è stato un momento che si è comportato di merda con noi però già me ne son dimenticata comunque quindi c'è non lo so one eternity later voglio sinceramente propendo più per andare con lui c'è mi ha incuriosito quello che ha detto c'ho un progetto ma ho bisogno di una seconda persona cioè non so cosa intenzione di fare Violet sì per cui c'è visto che io sono abbastanza curiosa di natura penso che andrò con Luis ragazzi ok si segui Luis non me ne vogliano i fan di Violet anche a me piace Violet come vi ho detto ragazzi mi piacciono entrambi purtroppo per cui c'è stato un pochettino difficile scegliere però vabbè dai cosa è mai ...che che ti prende i corretti prima 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 che tutto il resto è il giusto. ... è una buona idea. Non ho mai sentito la musica in un po' tempo. ...Mani persone diranno che non ti senti ancora. ... 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 Le possibilità sono semplici. In realtà mi sento abbastanza buona. La combina, non le morte. Perché non ci siamo a morire. Sei molto sicura. Devi essere, certo? Io non sono tanto così, ragazze. Quindi, qual è questo progetto che ho bisogno di me per? Già. Suono davvero, certo? All'altro che abbiamo bisogno di fare è attenzionarlo. E' per questo che ho bisogno di te. Dice, sono venuta qua per accordare un piano cuore. Eh... Sì. Ok. Ok. Buono. Ma, ma, ma... Ok, come dici tu. Già? Basta così? Ok, bravo. Questo non ha fatto nulla. Perché questo non è proprio parte della cosa che hai avuto un piano. Ma era divertente. Potrebbe aver fatto qualcosa. Oltre a un livello molecolare. Oltre a un livello molecolare. Oltre a un livello. Tu sei super bello. Bello? Wow. È... È... Il modo quanto heartfelt mese. Il cuore prima. Non, non gli dicendo di piano. Che. È una e singing. È che raccoglose. Quasi non so. Qui. C'è perío che giò. Il momento verg Miagnolo è geradepposto. Beh, tenera la cosa Eh, io voglio giocare su sta cosa qua Dell'amore Tenero Oh, è una... è una patata? Oooo È un pezzi, sì, vedo, è un pezzi È un pezzi, è un pezzi È super cool È davvero bello Quindi, hey, io mi prendo in un profilo profondo da cui non mi ricordi Cool? Cool Ah, è tempo di essere seriato Seriato? Wow, ti senti bene? Non è vero, non è vero Grazie per essere qui Mi piace piace So, um, I like you a lot, like, like you, has more than a friend No jokes, nothing No, non so, non so, wait No, non so, non so, non so, non so Oh, no, no, no... Oh, no, no! Oh, no, no! Oh, no, 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 no! ma che tenerezza ragazzi probabilmente sarebbe successo lo stesso con Violet quindi cioè avrei provato comunque tenerezza però va bene così che succede? c'è qualche novità? no, non c'è davo più same number as before 3 4 AJ it's okay if Abel frightens you you know how to control that there's 10 monsters out there he doesn't frighten me no but when he comes here I call dibs addirittura I'm the one that kills him è troppo pericolone no AJ he's too dangerous but no buts there's 12 of them now minchia but what if we played rock, paper, scissors? okay if I win you change your mind and I get dibs on Abel minchia I can take him, Clem ti ho detto di no? AJ I said no non insistere come on you won't always be able to tell me no what did you just say? nothing I didn't mean it si ti rendi conto che sei piccolo ancora o no? Clem I see something not a walker che cosa? che cosa? here you look too oh dio che cos'è? oh dio quel carro guarda guarda eh no good job AJ come on we have to tell the others allora direi che per oggi può bastare così è stato un episodio tranquillo abbiamo potuto appianare le divergenze con i nostri compagni e che dire lasceremo ragazzi questo momento cruciale perché i predoni stanno arrivando si sono finalmente mostrati alla prossima volta questo video termina qui grazie a tutti un bacione dobbiasi a tutti ragazzi ciao vi ricordo ragazzi che se volete questi antiaggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni ciao